Sono Stefano Pugliatti dello studio Elastico Spa e abbiamo due progetti al padiglione italiano. L'atelier Florist è un intervento di rigenerazione urbana tramite un edificio, un esperimento portato avanti nella collaborazione con la proprietà che ha creduto nell'idea di portare un oggetto per il lusso all'interno di un paesaggio urbano degradato per rigenerarlo. È un innesto di tipo fisico ma è anche un innesto di tipo sociale, due mondi diversi che si toccano e in qualche modo tentano di contaminarsi sperando che quello nostro riesca a contaminare il resto del tessuto. L'altro progetto è l'hotel 1301 Inn Slow Horse perché è a pian cavallo ed è un progetto molto diverso, un progetto in cui ci è stato richiesto di fare qualche cosa che riportasse lo spirito della montagna all'interno di una istituzione turistica degli anni 70 che non aveva ritrovato questo spirito di ospitalità e di accoglienza nei confronti del turismo. È stato un progetto che ha avuto un suo successo e noi siamo contenti, di nuovo l'abbiamo affrontato non tanto come un innesto fisico ma come un innesto spirituale in qualche modo per ricreare uno spirito. Per quanto riguarda in generale il senso di questa biennale, è una biennale molto diversa da quella che avevo visto prima, una biennale in cui i due temi fondamentali su cui mi pare si sia concentrato a Rem Colas, sono il tema di Mondo Italia alle Corderie, in cui ho letto un'astuzia fantastica da parte dell'autore, il quale utilizza la metafora dell'architettura come contenitore non privo di contenuti e quindi fa fare a una serie di altri autori degli interventi specifici sull'Italia, degli interventi di ricerca soprattutto specifici sull'Italia che costruiscono le murature, la struttura all'interno di cui lui va a inserire un'altra biennale che è la biennale della danza piuttosto che più avanti la biennale del teatro. Per quanto riguarda fondamentals invece di nuovo con la spiazza un po' tutti perché ci ha sbarrellato per anni parlandoci di junk space e portandoci a pensare all'architettura come non più solo costruito ma tutto quanto va intorno e alla fine dopo averci confuso ci riporta alle basi, ai fondamenti, gira a destra, gira a sinistra, gira a dito, cioè spiega il tetto, perché un tetto è un tetto e forse a parte il tetto è quella meno riuscita però per esempio parla molto bene della porta, la porta che non serve solo a entrare, serve a controllare, serve a separare, può essere fatta in molti modi e può avere molte funzioni. Penso che l'aspirazione di Colora sia diventare un nuovo Vitruvio, uno che ricrea questi fondamenti e forse è sulla strada buona, dico io. Ed è la prima volta che mi sento un Colassiano, mi va bene, adesso potranno dire che faccio il Colassiano anch'io perché questa volta mi ha convinto. Grazie.